mario toti capitano pluri pluri vittorioso per la contrada del drago e questo ci tengo molto a dirlo ecco sono già iniziate le strategie ma non lo so quando a miei tempi che ormai sono un po andati e le strategie cominciavano già prima però le quelle strategie vere cominciavano probabilmente a cavalli dati quelle vere importanti perché poi si è visto anche nel proseguo che le strategie d'inverno l'accordo di cofantini e la po magari saltano saltano tutte quello che io dico le strategie sono importantissime soprattutto per divertirsi cioè per chiacchierare soprattutto fanno per rimanere nell'ambiente perché per cercare appunto di stringere anche delle amicizie che poi secondo me dovrebbero valere anche anche nel palio perché ecco ma chi vede dall'esterno e sa che Zio Frac ha un piccolo infortuno proprio la vigilia della previsita ci sono c'è tale quale che arriva alle previsite con qualche dubbio cioè due cavalli verranno a mancare e che quindi cambieranno le strategie ma tale quale è andato a fare palio di Castiglion Fiorentino perché perché probabilmente il proprietario aveva quasi la sicurezza che non sarebbe stato preso e allora tenere il cavallo fermo tutto tutto l'anno nella stalla non ha neanche non fa neanche bene al cavallo per cui su questo Zio Frac non lo so per carità di Dio e penso che sia vero che abbia avuto anche piccolissimo incidente è anche vero un'altra cosa come si parlava scusa Mario stiamo vedendo una una paliata una bella andatura a parte di compilation Gabriele Puligheddo ragazzo a me piace molto tra l'altro come molta compilation che ricordiamo che è il cavallo di un gruppo di amici e di cui fa parte Paolo Paolo Saracini che ha seguito questo cavallo come fosse stato un figlio compilation è un cavallo che mi è sempre piaciuto già un paio d'anni fa mi sembra come un cavallo a Guglielmo a Monteroni fece una paliata il discorso credo che io voglio dire di questo fatto qui è un altro io sono vecchio perché ormai prima si diceva che quando uscivano dall'entrone la mattina dovevano fare un giretto a passo poi un po' e poi andando via ora ho visto dei cavalli uscire al galoppo dall'entrone questo secondo me non va molto bene non va molto bene anche perché un cavallo lo porti via dalla campagna e lo trovi qui cioè deve abituarsi a questa cosa qua ci sono tempi stretti però chiedono il serio impegno e quindi si ottimizza ma si ma il serio impegno intanto questa è una discussione io ho sempre fatto nei 12 anni ho fatto il capitano e si intende per il serio impegno il serio impegno vuol dire un casato a andatura buona e un san martino a andatura buona a volte vedi gli danno la via subito dopo il casato a san martino frenano un pochino poi gli ridanno la via forte nella spianata e poi rifrenano un pochino quindi diciamo un po' spettacolare ma poco esatto grazie Mario grazie davvero grazie Mario grazie a tutti grazie a tutti